e cerchiamo di capire un qualcosa che secondo me è importante nell'ambito di una relazione cerchiamo di capire quali sono, come prevenire diciamo, come riconoscere, come prevenire salutiamo anche Pink, una relazione tossica, quali sono i segnali d'allarme e quali sono le strategie un saluto alla nostra Green Apple from London, le strategie per proteggerti dalle relazioni dannose e fondamentalmente riprendere il controllo della tua vita perché insomma il mondo è fatto da persone un saluto anche a Gaia che possono anche essere estremamente negative e quindi bisogna fare attenzione bisogna riconoscere quali sono le bandierine rosse, quali sono i campanelli d'allarme anche perché diciamo spesso in amore gli esseri umani sono un po' come i bambini piccoli sono attratti come i bambini piccoli che vanno a cercarsi come dire il male dappertutto e così l'attrazione verso ciò che è pericoloso, verso le relazioni pericolose è un qualcosa che caratterizza molti esseri umani, sia uomini che donne non so se vi ricordate, le liaison dangerous, le relazioni pericolose il film dove sembra che queste relazioni diciamo con personaggi particolari possono essere comunque molto attrattive e quindi bisogna riconoscere i campanelli d'allarme le bandierine rosse delle relazioni pericolose e tra l'altro anche imparare eventualmente cadessimo nella trappola, nella tela del ragno di una relazione pericolosa dobbiamo imparare ad uscirne fuori intanto soltiamo anche Gaia Gaia si cerca l'inafferrabile si cerca molte persone vanno alla ricerca del rapinatore tra virgolette ma il problema è che poi si lamentano di essere rapinate questo è la cosa paradossale che io ho sempre notato è questa ci sono persone che vanno per dire vanno alla ricerca del rapinatore vanno nei vicoli di Genova in via Pre che era via dei Predoni a Genova e nei Caruggi con il che ne so una mazzetta di soldi in mano così salutiamo anche me e poi quando arriva il rapinatore dopo si lamentano di essere rapinate ma è normale che accadano è normale che accada questo la via Pre si via Pre nasce da Predoni esatto si chiama via Pre nei vicoli ma era la via dei Predoni perché mi sembra che quando c'erano i genovesi che facevano diciamo adesso non mi ricordo in che epoca comunque erano Predoni poi andavano in via Pre a vendere il materiale che avevano predato dalle navi insomma una specie di corsari che attaccavano e poi li andavano a vendere Pre fa Predoni bene comunque questo è un'altra cosa interessa quindi bisogna imparare a prevenire diciamo di cadere nelle relazioni pericolose dobbiamo imparare a uscirne fuori d'altra parte dobbiamo anche tenere presente che le relazioni sono un aspetto fondamentale della vita umana tutti noi in un modo o nell'altro abbiamo delle relazioni non esiste essere umano che in qualche modo non sia relazionato con qualche essere umano sotto relazioni di diversa natura non è che le relazioni sono tanto relazioni matrimoniali ci possono essere relazioni di varia natura però l'importante è che siano benefiche per noi e ne ripeto salutiamo anche Davide ah bene bene è importante tenere presente questo che quello che per qualcuno può essere un problema per un altro può essere una soluzione quindi io quando parlo di relazioni tossiche ne parlo in modo soggettivo ovviamente in alcuni casi sono oggettivamente dannose come ad esempio relazioni con narcisisti insomma in questo caso non hanno aspetti pericolosi però ad esempio relazioni con uomini o donne sposate per qualcuno possono essere un problema per altri possono essere invece una benedizione no perché uno dice a me che mi frega un carattere impulsivo può logorare la relazione beh un carattere impulsivo può come dire creare forti tensioni nella relazione bisognerebbe sempre che è un carattere impulsivo che è un carattere impulsivo può logorare più che logorare può creare delle tensioni diciamo non dico ansiose ma tensioni negative non tensioni emozionali insomma tensioni di rabbia può amplificare la rabbia comunque dicevo quindi può causare ansia insomma o rabbia ad esempio la relazione con una persona impegnata con qualcuno per qualcuno potrebbe essere negativa per qualcun altro potrebbe essere positiva perché uno dice a me che mi frega io non voglio avere vincoli e voglio essere diciamo libero di fare qualunque cosa si diventa cacciatore di narcisisti sì può essere può essere comunque è importante quindi riconoscere comunque le relazioni che per noi sono pericolose le relazioni pericolose fondamentalmente sono relazioni che ci fanno star male non dico a relazioni che ci causano danni economici fisici o di altra o di altra natura insomma questo però anche relazioni che ci fanno star male dobbiamo tenere presente che purtroppo questo tipo di relazioni inizia sempre con una fase di idealizzazione dove il partner viene idealizzato non viene idealizzato e oppure ti idealizza perché appunto ci sono persone che ti idealizzano inizialmente ti offrono attenzioni regali lusinghe tuttavia diciamo spesso anche se non si tratta di narcisisti questa fase di idealizzazione viene seguita da una fase di devalorizzazione cioè di squalifica le cause diciamo del perché ci innamoriamo di questa tipologia di persone può essere svariata ma principalmente sono i nostri bisogni e quello di volere diciamo come possiamo dire rivincere la partita del cuore cioè nel senso che ognuno di noi ha avuto un imprinting e questo imprinting in qualche modo l'ha segnato rappresenta quella partita del cuore ma la partita del cuore dobbiamo rigiocarla pienamente dobbiamo rigiocarla pienamente cosa vuol dire vuol dire che se tu hai perso la partita la finale dei mondiali per dire non è che puoi dire eh vabbè hai perso la finale dei mondiali dicono l'Italia magari ha perso la finale dei mondiali ma ci rifacciamo andiamo a giocare contro che ne so la Repubblica di San Marino oppure contro Malta e vinciamo e va bene così no devi rigiocare una partita simile insomma per importanza e per questo noi andiamo proprio a cercare a cercarci diciamo ecco diciamo così che se da bambino hai vissuto delle tensioni hai giocato con un giochino diciamo elettronico di grado di difficoltà 10 da adulto andrai a cercarti un giochino con grado di difficoltà 10 e se trovi un giochino con grado di difficoltà 5 gli altri 5 te li procuri magari diciamo attraverso altri tipi di tensione che potrebbero essere che ne so un amante per dire no e perché è l'amante per generarti con la tensione che il marito non ti genera o che la moglie non ti genera perché l'amante comunque genera tensione genera adrenalina no non fosse altro per la paura di essere scoperti e quindi è importante da questo punto di vista come dire riuscire a riconoscere quelle che sono le relazioni pericolose e evitare di cascarci dentro insomma è ovvio che le relazioni pericolose possono avere anche degli effetti proprio sull'emotività delle persone possono generare stress possono generare somatizzazioni insomma possono far star male la persona quindi questi disturbi devono tenerti presente che probabilmente vivi una relazione di merda fondamentalmente molte persone si sentono proprio attratte dalle relazioni pericolose anche quando sanno che possono essere dannose cioè la pura comprensione razionale salutiamo Cristina del bene e del male non ci garantisce che faremo il nostro bene e che eviteremo di fare il nostro male questo lo diceva pure San Paolo Paolo di Tarso diceva ma signore ma com'è che continuo a fare il male che non voglio lui ammazzare i cristiani anche se vorrei fare il bene che invece voglio ecco quindi che dobbiamo imparare questo in primo luogo diciamo le relazioni pericolose ci attraggono perché ci donano ci danno adrenalina fondamentalmente ma ci danno da un lato anche dopamina perché è quel misto di piacere e di eccitazione adrenalina e dopamina messi assieme sono un mix chimico che fa sì che le relazioni pericolose traggono ovviamente questo è semplicemente il substrato chimico dell'emotività perché poi l'emotività si manifesta attraverso dei neurotrasmettitori in questo caso adrenalina e dopamina è ovvio che c'è anche una sorta di ancoraggio emozionale c'è da aggiungere un altro fatto che spesso l'attrazione verso il pericolo o verso relazioni squalificanti può essere anche dovuto a una scarsa autostima perché diciamoci la verità le persone che hanno una forte autostima che hanno una buona come dire consapevolezza di se stessi difficilmente vanno a cascare in una relazione dannosa in una relazione pericolosa insomma in una relazione che ti può far star male ecco quindi questi sono un po' quali sono i segnali d'allarme che stai finendo in una relazione di merda quali sono i campanelli d'allarme che stai finendo in una relazione tossica beh il primo secondo me è la gelosia la gelosia o la possessività è un grande campanello d'allarme che ha a che fare con una relazione pericolosa e qua spesso molte donne ci cascano come delle perecotte anche molti uomini ma se non è geloso non mi ama se non è geloso significa che non mi ama sto cazzo e no se è proprio il contrario se è geloso significa che non ti ama poi ci sono persone che sono gelose di tutto sono gelose dei tuoi successi sono gelose delle tue amicizie sono gelose dei tuoi hobby sono gelose del tuo lavoro sono gelose di tutto sono nel mio lavoro in incontro parecchi esatto ma l'importante è riconoscerli perché se li riconosci li elimini quindi la possessività e la gelosia è uno dei primi campanelli d'allarme quelle che ti fanno le sceneggiate che ti vengono a dire in qualche modo ah ma dov'eri cosa facevi che è questa che è quello talvolta ci sono persone che sono gelose che non hai neanche fatto una non hai neanche una relazione no questa è la cosa interessante ci sono persone che sono gelose senza che neanche tu sia il fidanzato il marito la fidanzata la moglie ma semplicemente sei una persona che conoscono si può essere gelosi di tutto fargli pagare di più è ancora la cosa migliore Tug perché in questo modo li penalizzi e si allevano dei coglioni da solo da soli ecco quindi la gelosia e la possessività sono veramente un segnale un campanello d'allarme forte da tenere presente un saluto a Rosanna un altro un altro segnale un saluto a Gaia la tassa sul narcisismo è interessante come dice la nostra Green Apple from London un'altra cosa da tenere presente molto interessante è le persone che hanno dei comportamenti aggressivi cioè una persona che ha comportamenti aggressivi è una persona che devi levarti dai coglioni una persona che devi levarti dai coglioni cioè chi ha scatti di era anche secondo me come diceva prima Green Apple come diceva prima Roxy che è impulsivo cioè le persone impulsive l'impulsività è un segnale perché le persone impulsive tendenzialmente sono anche aggressive sono anche persone che magari hanno dei raptus hanno sbottano hanno degli scatti di era le persone impulsive dal mio punto di vista poi ognuno può fare quello che vuole ovviamente fa le sue scelte però dal mio punto di vista le persone impulsive sono persone negative cioè chi agisce senza pensare perché poi ci sono due comportamenti nel comportamento impulsivo in realtà io lo chiamerei comportamento compulsivo cioè il comportamento compulsivo è esattamente la stessa cosa il compulsivo noi abbiamo due sfere la sfera logica e la sfera emotiva e quindi se la sfera emotiva prevale domina sulla parte logica la persona sarà impulsiva oppure compulsiva cioè agirà senza ragionare invece se e quindi questo è un errore se la sfera logica diciamo invece è molto prevalente sulla sfera emotiva spesso la persona agisce diciamo riflette senza agire perché la riflessione inibisce l'azione un eccesso di riflessione cioè sono le persone che pensano 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 e non fanno un cazzo mentre invece le persone impulsive sono quelle che fanno senza pensare ovviamente anche in questo caso come potete capire come anche dice la carta dei tarocchi del carro no? la carta dei tarocchi del carro adesso lo stavo cercando ci dice proprio questo è una carta molto importante la carta del carro perché ci fa capire che noi possiamo vincere possiamo andare bene soltanto se diciamo possiamo andare bene soltanto se siamo in equilibrio come dice giustamente la nostra diciamo Gaia quando magari una parte può prevalere sull'altra perché siamo sempre un cappuccino anzi una parte dovrebbe comunque prevalere sull'altra perché altrimenti saremo senza energie quindi però diciamo che la regola che poi si potrebbe vedere da grafici che però adesso non ho tempo di fare comunque la regola prevede ecco qua il carro della vittoria il carro dove vedete che questo rappresenta bene questa simbologia il carro rappresenta bene perché c'è questa persona che è un diciamo è il mago che è diventato re perché vedete che ha la corona e che ha queste governa diciamo queste due che qua vengono rappresentati come due animali in realtà sono due specie di sfinge da qualche parte vengono rappresentate come leoni e però se questi due uno tira da una parte uno tira dall'altra sto carro sta fermo e non fa niente quindi la vera il vero successo è quello di avere un equilibrio tra parte logica e parte emotiva diciamo che un po' di discrepanza serve cioè perché se avessimo parte logica uguale identica alla parte emotiva avremmo energia di vita zero mentre invece un po' di discrepanza serve proprio per darci vitalità e la discrepanza di quanto al massimo il 30% quindi le persone emotive hanno la parte logica inferiore al 30 o al massimo al 30% di quella emotiva le persone iperlogiche hanno la parte logica superiore al massimo al 30% però perché se no diventa eccessiva la cosa in un caso e nell'altro infatti le persone impulsive hanno questa caratteristica che diciamo non riescono a gestire la loro vita perché non pensano le persone eccessivamente inibite dalla riflessione non fanno niente nel frattempo mettete un like anzi vi suggerisco di fare una donazione al canale tanto costa un euro fate un anzi una donazione potete fare un euro chi volesse partecipare alle live domande e risposte quindi farmi delle domande se all'abbonamento si può abbonare e se invece non avete non avete soldi da spendere perché vivete in situazioni di indigenza magari andate a mangiare alla caritas e quindi siete ristretti nel danaro giustamente mettete un like che non costa niente anche come dire chi si rivolge alla caritas per vivere può mettere un like perché non costa niente e salutiamo Shiri ecco ecco quindi però per rispondere alle domande come dicevo dovreste fare abbonamento questo è un canale dove la risposta alle domande la do ma tramite l'abbonamento sennò non diventa una bolgia quindi allora comunque continuando il concetto un'altra caratteristica che dobbiamo tenere presente un'altra caratteristica che dobbiamo tenere presente è l'isolamento se il tuo partner cerca di isolarti questa è un'altra caratteristica che dobbiamo prendere in considerazione cioè se il tuo partner cerca di isolarti dalla tua famiglia dai tuoi amici dalla tua vita questo è un segnale che è una relazione che diventerà comunque pericolosa perché potrebbe essere un narcisista ad esempio i narcisisti i narcisisti cercano in tutti i modi di isolarti cercano in tutti i modi di condizionare in tutti i modi di condizionare la tua vita tra l'altro anche la manipolazione perché chi cerca di isolarti cerca in qualche modo di manipolarti ecco quindi anche qua bisogna fare attenzione se tu stando con una persona ti senti sempre in colpa oppure diciamo questa persona usa la manipolazione emotiva devi levartelo dai coglioni fondamentalmente è un altro segnale da prendere in considerazione molto forte e anche la mancanza di rispetto diciamo se hai a maggior ragione un partner che ti manca di rispetto magari ignorandoti non dandoti considerazione sono tutte bandierine rosse che devi che devi prendere in considerazione e un'altra cosa io una relazione tossica la vedo mi spiace dirla perché per carità però con persone che non hanno un'autonomia finanziaria cioè con persone non dico povere uno dice ma i poveri cosa fanno però come dire se tu hai una relazione con una persona povera diciamo piena di problemi economici finanziari o anche di altra natura però infatti adesso andiamo a vederti una serie di problemi e questo diventa pesante perché tu hai un fardello un gravame che alla fine ti logora comunque non è una relazione bisognerebbe interagire con persone che comunque siano economicamente autonome economicamente autosufficienti senza ci sono quelle che o quelli per carità perché anche gli uomini che cercano nell'altra parte un quella che viene chiamata ipergamia un passaggio come dire ma questo ovviamente non è che ti fai dare 730 740 per controllare però l'autosufficienza l'autosufficienza è fondamentale per evitare poi sorprese che ti trovi persone che sono come dire che quando tu sei inguaiato devi mantenertela insomma è estremamente negativo cioè ti trovi le sanguisughe cioè gli scrocconi o le scroccone le persone sanguisughe le persone ecco perché non ho voglia di innamorarmi brava Cristina le persone che sono sanguisughe fondamentalmente scrocone le persone che diciamo interagiscono con te ma perché vogliono avere regali vogliono scorcare cene viaggi vacanze ricchi premi ecotion alla fine logorano e vanno levati dai coglioni così come secondo me anche le persone che sono instabili emotivamente abbiamo già detto un po' prima no però purtroppo poi ognuno dei gusti bustano disputando meste uno può anche se andate a vedere il film follia diciamo che ognuno può stare con chi vuole no però come dire meglio trovarsi persone meglio trovarsi persone che anche emotivamente siano stabili insomma poi ovvio che ognuno avrà qualche pecca qualche cosa no però come dire tanto meglio prima si come dire questo per una relazione a lungo termine per carità per una relazione a lungo termine beh è anche secondo me importante può essere una relazione tossica persone che diciamo non hanno come dire sono dei pessimisti cosmici no delle persone estremamente negative io le considero le considero persone tossiche perché il pessimismo è come l'ottimismo è contagioso persone sempre incazzate depresse e alla fine ti faranno incazzare deprimere per quello che io consiglio sempre di mettere sulla porta di casa un bel cartello con scritto vietato l'ingresso ai tristi non tanto perché ognuno può essere triste quanto vuole per problemi suoi però interagire con persone tristi ti intristisce fondamentalmente ti intristisce perché perché noi come esseri umani facciamo focus facciamo focus su quello che ci viene proposto se è che fai con persone che ti propongono sempre il lato oscuro della vita il lato negativo salutiamo francesca brava mettete un like con persone che ti propongono il lato oscuro della vita con persone che ti propongono diciamo sono sempre incazzate depresse sempre negative si lamentano sempre e beh questa tipologia di persone ovviamente come dire sono persone pesanti sono persone che alla fine come dire sapete quando trovate delle energie negative come quando si va in una casa non so se alcune persone sarà capitato però ad esempio nelle case negli alloggi nelle abitazioni dove magari c'è stato un omicidio ci sono state questo si sente ad esempio io l'ho sentito forte una volta che ero andato a vedere non mi ricordo in quale città però un museo delle torture dove c'erano proprio tutte queste macchine reali dove un castello era un castello da qualche parte dove quindi diciamo perché anche i muri assimilano chi vive in posti dove ci sono state torture cose del genere dove c'è dolore e questo diciamo sono entità abbastanza negative no quindi questo è e poi come giustamente Tug se dici sempre che le cose vanno male difficilmente andranno bene ecco quindi queste sono un po' le cose poi secondo me ovviamente invece ci sono altre cose che sono meno importanti ma sicuramente non trascurabili ad esempio io eliminerei sicuramente le persone pettegole le portinaie le portinaie e i portinai li eliminerei perché le persone no non a Siena no no non a Siena non mi ricordo più tanto tempo fa non so se a Torino o da qualche pari forse in provincia di Torino in Piemonte mi sembra però non mi ricordo esattamente dove adesso comunque parlo di un bel po' di anni fa però si sentiva proprio un'atmosfera pesante un'altra un'altra cosa è diciamo le persone pettegole le persone che sono diciamo negative le persone che sono più che più che negative che fanno gossip che parlano male degli altri che sono dominate dall'invidia dall'invidia verso gli altri quindi spettegolano parlano male esatto possono essere utilizzati perché se tu vuoi far sapere qualcosa glielo dici e dirgli mi raccomando questa cosa qua non dirla a nessuno e ti possono essere utili per diffondere delle cose infatti a un pettegolo basta dirgli guarda ti rivelo una cosa importante mi raccomando non dirla a nessuno ed è la cosa che te invece vuoi far sapere e quindi anche i pettegoli utilizzati in questo modo possono essere utili basta dire non dire non dirla a nessuno e sei sicuro che verrà detta a tutti ecco queste sono situazioni diciamo ecco sono situazioni che vanno eliminate secondo me queste sono verifiche che vanno fatte perché persone di questo genere sono comunque tossiche nel senso che ha diversi livelli di tossicità ovviamente perché in realtà uno dice se uno è povero perché è tossico ma non è che se è povero è tossico però il problema è perché io devo accollarmi diciamo come dire un gravame sul sul groppone quando potrei farne tranquillamente a meno questa è la domanda a cui uno dovrebbe dare una risposta è è